Cena di pesce con antipasto primo e secondo a meno di 5 euro a testa? Ecco come! Sandwich di sarde e pancetta. Le sardine costano davvero pochissimo e con un etto di pancetta e un po' di aromi ci si possono fare degli antipasti davvero deliziosi. Primo, spaghetti con colatura di alici. La colatura di alici per la verità non è proprio economica, però ne basta pochissima per farci un primo che racchiude tutto il sapore del mare. Secondo, filetti di sgombro al limone e rosmarino. Gli sgombri sono economici, saporiti e salutari. Con un paio di limoni e qualche arametto di rosmarino puoi ottenere un secondo piatto davvero delizioso. Nella descrizione del video trovi tutti i link alle singole ricette.